Buongiorno a tutti, rieccoci con una nuova ricetta della tradizione alimentare mediterranea. Oggi il protagonista è il pesce spada, delle bellissime fette di pesce spada e prepareremo gli ingoltini di pesce spada. Basta fare una fettina e un po' di ripieno, preparato un pangrattato e prezzemolo e preparare un questo importino lo andremo ad aggiare in un soffritto preparato con pomodorini ben maturi, aglio e un filo di olio extravergine di oliva. Ecco preparato il pangrattino, lo adageremo chiudendo col coperchio. Lascieremo la cottura per circa 3-5 minuti e saranno quanti? Saranno ottimi da gustare e col sugo si potranno condire gli spaghetti o qualche altro tipo di pasta antica siciliana. Il pesce spada dobbiamo dire che è un alimento importantissimo, è un pesce che un tempo veniva pescato quasi esclusivamente nelle acque dello stretto, quindi in zona ci sono delle ricette uniche di cuore originali. È ricco di proteine animali, vitamine, sali minerali ed adatto quindi all'alimentazione di grandi e di bambini. Prepararlo in questa maniera è un modo semplice, ottimo e genuino, ma anche molto digeribile. Eccovi gli indultini di pesce spada in uvido. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima ricetta. Buon appetito! Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!